Il prossimo programma che vorrei indicarvi è d'immenso valore perché è coprodotto con il distritto della musica Valmarecchia, che avete modo di aver visto la sigla anche di questo online. Di questo programma si occupa maggiormente il nostro collaboratore giornalista Gabriele Cevasco che salutiamo. Questo programma, come vedrete poi nella sigla, è uno spazio dedicato alla bellezza naturale del nostro territorio, che abbiamo il privilegio di essere in un'oasi naturale, uno spettacolo della natura che ci ha regalato Madre Natura. Io lancierei la sigla e anche per questo mi invito a segnalarci i vostri teatri dell'anima all'indirizzo mail iteatri dell'anima chiocciolatrcarpegna.net Ed è anche per questo lancio la sigla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.